I malviventi sono entrati in azione poco dopo le 9, un gruppo composto da 4 persone incappucciate ed armate di pistole. Tutto è durato pochi istanti, la violenta aggressione ad una guardia giurata e poi la fuga con il bottino, senza lasciare tracce. Questa la primissima ricostruzione della rapina messa a segno questa mattina davanti alla filiale della banca Apulia di Biapuglia a Cerignola. Vittima un dipendente dell'istituto di vigilanza Cosmopol intento a consegnare una somma di denaro all'istituto di credito. Non appena il vigilante si è sceso dal blindato dell'azienda, i banditi lo hanno assalito strappandogli dalle mani il plico contenente le banconote. L'uomo è stato anche colpito alla testa da uno dei malviventi con il calcio di una pistola. Presi i soldi, i rapinatori sono fuggiti a forte velocità con un'auto, probabilmente una Peugeot 208 di colore scuro, che era stata parcheggiata nelle immediate vicinanze della banca. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia locale che hanno già acquisito i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza della zona. La guardia giurata, ferita al capo, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza nell'ospedale Tatarella. La montare del bottino non è ancora stato quantificato. Si tratta del secondo episodio di questo genere accaduto a Cerignola in meno di 15 giorni. Il 25 giugno scorso due guardie giurate, padre e figlio, vennero aggredite e rapinate da un commando di banditi. A rifiuto di consegnare un borsello contenente denaro, un vigilantes venne ferito ad una mano, con un colpo di fucile.